vedi adesso io faccio delle deduzioni a caso quella che ti ho fatto vedere a 6.000 di baselli questa ne viene 17 qua quella di baselli a 6.000 questa 16 e tu prendi il 2.011.8 del famoso influencer allora questa qui è rarissima è praticamente fatta da un dirigente fiat tutto con accessori 17.4 prego vabbè è il suo prezzo perché è fatta da un dirigente per un dirigente con tutti accessori limitati qui abbiamo questa qui che viene te lo dico io viene sui 5.000 5.6.000 batte lì adesso vatela vedere però comunque sia un po' è stata smontata adesso bisogna chiamarlo lui perché vedo che anche il cerchione è un po' ammaccato vabbè sui 5.000 viene però guarda e tu mi dici vabbè allora baselli e no perché guarda questa questa qui viene 14 questa viene 14 questa se la vai a vedere viene 14 ho visto il prezzo c'è la targa vai a vedere 14 poi verificare 14 quindi vedi che hai 17 prezzata 14 5 ma comunque ha sofferto perché è stata smontata e non è in buone condizioni cioè comunque c'è da fare dei lavori e questa 14 allora e vai a prendere un 18 la la 2020 valvole e poi ti faccio vedere 2600 e due